Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, apriamo parlando di questo caldo record, la settimana più bollente è appena iniziata, noi siamo andati in pronto soccorso per capire qual è la situazione, quindi sia dal punto di vista dell'accesso al pronto soccorso dovuto a malori per il caldo ma anche per acquisire degli importanti consigli, sentiamo. No, non è solo questa settimana, pare che dalle previsioni i prossimi giorni ci sia addirittura una riacutizzazione, comunque è già una quindicina di giorni e soprattutto dopo i primi 5 o 6 giorni dell'inizio del caldo abbiamo cominciato a vedere un aumento del numero delle presenze in pronto soccorso che è più o meno stimato di circa il 10%. La settimana più calda dell'anno è appena iniziata, raggiungeremo, dicono gli esperti, i 40 gradi e forse anche oltre. Gli accessi al pronto soccorso dell'ospedale di Arezzo sono già aumentati, lo dicono i numeri, lo conferma il dottor Zanobetti. Tra coloro che hanno fatto accesso nelle ultime ore al pronto soccorso, anche sportivi che appunto hanno fatto attività nelle ore più calde della giornata. Sono come al solito la maggioranza persone con polipatologia, anziane, che si disidratano per vari motivi, perché non hanno ambienti adatti, freschi, bevano meno, sappiamo che gli anziani bevano meno per definizione e soprattutto se hanno polipatologia e soprattutto se usano farmaci, tipo per esempio diuretici, hanno una facilità a disidratarsi e arrivano per quadri spesso di insufficienza renale, che magari si risolvono anche in 48 ore, ma però vuol dire che dobbiamo tenerli perlomeno un paio di giorni in più e quindi per noi è un problema anche per i posti letto. Quest'anno rispetto agli anni scorsi abbiamo visto diversi casi anche di atleti non professionisti, quindi chi fa footing, chi fa bicicletta, che hanno avuto dei colpi di calore. Uno dei consigli è appunto di non andare a fare attività sportiva nelle ore veramente flue. Da tenere strettamente sotto controllo gli eventuali sintomi di un colpo di calore. Il colpo di calore è una patologia importante che bisogna riconoscere perché può essere anche pericolosa, cioè il paziente comincia a avere la cefalea, comincia a avere nausea, vomito e soprattutto uno stato confusionale importante, quindi un sopore importante, quindi dopo un'esposizione a temperature elevate, anche non direttamente al sole, ma a temperature elevate con alta umidità, può avere questi sintomi che vanno riconosciuti e bisogna trattarli subito perché sono pazienti che possono avere dei gradi di ipertermia, quindi avere la febbre molto molto alta, può esordire addirittura con delle convulsioni, quindi insomma una patologia che non bisogna misconoscere e quindi bisogna recarsi direttamente al pronto soccorso. È chiaro che questi casi non sono molti, ma quando sono vanno trattati subito con redidratazione, abbassare la febbre e bisogna davvero recarsi al pronto soccorso, questo è un invito a venire da noi. E allora parlando sempre di questo caldo record, l'appello arriva dal CISL a tutte le aziende che lavorano soprattutto nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura ad usufruire della cassa integrazione straordinaria proprio dovuta agli eventi meteo straordinari come appunto ad esempio questo caldo proprio per consentire ai lavoratori di rimanere a casa. Lavorano le due, lavorano le tre, le pomodigio, le quattro. Io rialtano prima con un lavoratore che mi ha detto ma qui non ce la facciamo più sti giorni, qua c'è un caldo impressionante, non riusciamo più, e dico chiedi la cassa integrazione, chiedetela. È iniziata la settimana dell'anticiclone africano Caronte, un'ondata di calore che non darà tregua specialmente a chi tutti i giorni deve lavorare all'aperto e in condizioni delicate. Lavoratori che ci chiamano dai tetti, dai piazzali senza un minimo di tettoia. Ma soprattutto chi stende il manto stradale, già una temperatura elevata di per sé e poi con l'asfalto che è bollente. I sindacati tornano così nuovamente ad invitare lavoratori ed aziende nell'utilizzo della cassa integrazione prevista nei casi di condizioni climatiche che aumentano i rischi nei luoghi di lavoro. C'è la possibilità dell'anno scorso per le temperature elevate che superano i 35 gradi centirali, ma anche per quelle inferiori ai 35 gradi, purché vi sia quella temperatura percepita più alta, secondo le tasse di umidità, la possibilità appunto nelle ore più calde di che della cassa integrazione. Il lavoratore purtroppo lo strumento è quello di fermarsi, magari di chiamare noi che li seguiamo come sindacati e comunque di dare un input all'azienda, di dire che non si può continuare a lavorare sotto il sole. Mentre ci sono aziende che hanno già modificato l'orario di lavoro per sfruttare così le ore più fresche, ad oggi solamente un'impresa su 10 fa richiesta di cassa integrazione per il caldo. Soprattutto sono le aziende non del territorio, i trasfertisti, ma per quale motivo? Per il semplice motivo che l'azienda ha la fretta di concludere il proprio lavoro nei tempi stabiliti, perché oltre al lavoro che devono fare devono comunque dare ai lavoratori il classico vitto, l'alloggio, quindi sono delle spese ed è sempre la rincorsa a finire prima il cantiere. Però a discapito di cosa? Ultima nota che riguarda proprio questo caldo record, è vietato tenere i cani alla catena, c'è un'ordinanza proprio specifica su questo tema del presidente della regione toscana appunto in merito. Sulla misura interviene anche Alessandra Capogreco, presidente dell'EMPA di Arezzo, ogni anno con il presentarsi del caldo dice si intensificano le segnalazioni di animali obbligati a stare tutto il giorno in recinti senza essere portati fuori o peggio ancora tenuti alla catena. Spesso i cani nei recinti, dice la Capogreco, o alla catena hanno un accudimento quotidiano non idoneo a questo periodo di intenso caldo e quindi è facile incorrere anche nel reato penale di maltrattamento degli animali. Faccio appello alla sensibilità, dice la presidente dell'EMPA di chi vede di denunciare simili situazioni. E' stato ritrovato nella notte il corpo del 45enne che era risultato scomparso, disperso dopo un tuffo in un laghetto artificiale nel comune di Anghiari. Era un lavoratore e un padre di famiglia. Il 45enne ritrovato ormai senza vita, disperso da ore nelle acque del Teveri all'altezza di una golena che si trova nel territorio di Anghiari, località Viaio. Ilie Daniel Botos, imprenditore edile di origini romene, è morto annegato in questo laghetto artificiale, una ex cava dove vige il divieto di balneazione. L'uomo si era recato qui con un gruppo di amici per pescare poi il tuffo, dal quale non è più riemerso. Le ricerche sono andate avanti anche durante la notte grazie all'impegno dei vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori che hanno utilizzato un ecoscandaglio, uno strumento che emette onde che permettono di individuare la presenza del corpo durante le ricerche, così intorno alle 3 del mattino è stato individuato e recuperato. L'uomo residente ad Arezzo lascia la moglie e due figli minori sul corpo, non è stata disposta all'autopsia, la salma è già stata restituita ai familiari. Un messaggio di cordoglio e di vicinanza per la famiglia è arrivato dal sindaco di Anghiari, Alessandro Polcri. È una zona molto bella dal punto di vista naturalistico, ha detto la conosco bene perché ci abito e ci sono cresciuto. È di proprietà del demanio, è interdetta alla balneazione, però è molto spesso frequentata dai pescatori e da tanta gente, soprattutto nel periodo estivo. Sono acque molto pericolose, queste come hanno ricordato gli stessi vigili del fuoco. L'appello se c'è un diviato di balneazione, un motivo c'è. Queste acque sono molto pericolose perché è un lago artificiale dovuto a un riempimento di una ex cava e quindi è molto melmoso e insidioso e se specialmente non siamo allenati si rischia di fare una brutta fine. Buone notizie sul fronte invece dello stato di salute del ragazzino di 13 anni che lo ricorderete era caduto dal ponte di Annibale. Sentiamo allora il servizio di Chiara Sadotti. È uscito dal coma e respira autonomamente il 13enne che lo scorso primo luglio era precipitato dal ponte Annibale a Pian di Scò dopo che la staccionata aveva ceduto. La sua situazione è così in progressivo miglioramento. Il ragazzino era stato ricoverato in rianimazione all'ospedale Meyer di Firenze per il trauma cranico riportato nella caduta. Nelle prime ore tanta la preoccupazione e l'apprensione, poi era stato dichiarato fuori pericolo di vita e adesso finalmente la notizia tanto attesa. Intanto prosegue l'inchiesta per lesioni gravissime, coordinata dal PM Emanuela Greco, per appurare l'esatta dinamica dei fatti ed eventuali irresponsabilità. Il ponte è stato messo sotto sequestro. Gli inquirenti dovranno infatti comprendere di chi sia la competenza su quella struttura che ricade sul territorio comunale di Castelfranco Pian di Scò. Quel terribile giorno il tredicenne si trovava nei boschi del Prato Magno per un campo estivo organizzato da una parrocchia di rifredi. Assieme ad amici e animatori stava percorrendo il sentiero Cai che attraversa proprio il ponte Annibale. Quando si è appoggiato però la staccionata ha ceduto e lui è caduto da un'altezza di 5 metri nel torrente Resco, adesso in secca. I carabinieri di Toronto l'hanno denunciato per favoreggiamento del soggiorno clandestino in Italia. Un 53enne e un 44enne extracomunitario in concorso residenti entrambi nella provincia di Caserta. I carabinieri avrebbero accertato che i due avrebbero appunto favorito la permanenza in Italia del 44enne fingendo la sua assunzione in qualità di collaboratore domestico alle dipendenze del 53enne ottenendo così il permesso di soggiorno. Si torna al lavoro allo stabilimento Fimer di Terra Nuova Bracciolini ma solo per pochi giorni. C'è ancora un atteggiamento di incredulità da parte di molti e noi speriamo che la nuova situazione permetta di eliminare questo problema. Dopo mesi di incertezze, lavoratori e sindacati vogliono vederci chiaro. Sono state troppe le delusioni che si sono susseguite per accogliere con calore l'ultimo annuncio del CDA dell'azienda. Martedì pomeriggio è stato infatti proprio uno dei consiglieri della Fimer, Luca Bertazzini, che da giorni gestisce in prima battuta il confronto a presentarsi ai cancelli dell'azienda di Terra Nuova Bracciolini. Qui ha incontrato prima i dipendenti, poi i sindacati per illustrare il piano di rilancio che passa dal fondo inglese Clementi. È un fondo che verserà nelle casse della Fimer degli investimenti cospicui. Parte da presupposti diversi, un inserimento nella società in termini di equity, cioè di capitale, di una cifra importante che si aggirerà nell'intorno di 95 milioni e questa è veramente una cifra significativa. Già depositato il contratto siglato con Clementi, l'ultima parola aspetterà adesso al Tribunale di Milano. Dopodiché daremo immediatamente esecuzione in modo da avere quanto prima possibile una disponibilità finanziaria commessa da Clementi nell'intorno di 17 milioni di euro, parte dai 95, che sono assolutamente indispensabili per permetterci il proseguimento dell'attività. Questo ammontare di denaro importante si articolerà in due tranche, la prima da 7 e la seconda da 10 e tutto questo dovrebbe avvenire nell'arco dei prossimi giorni. Un'iniezione di liquidità fondamentale per la ripresa della produzione, ferma dallo scorso lunedì per mancanza di materie prime. La produzione è proprio perché non riusciamo a sbloccare il supply dei componenti che sono ospitati presso magazzini e soprattutto presso trasportatori e naturalmente abbiamo bisogno di danari per pagare il loro servizio e quindi sbloccare questa merce. Ieri Arezzo ha festeggiato il 79esimo anniversario dalla liberazione del nazifascismo legata proprio a questa importante ricorrenza. C'è una mostra dedicata ad Aldo Ducci, antifascista, partigiano e sindaco di Arezzo. Cento anni fa nasceva Aldo Ducci, storico sindaco e partigiano, ma questo 16 luglio Arezzo ha celebrato anche il 79esimo anniversario della sua liberazione dal nazifascismo ed è stata così una giornata nel segno del ricordo per la città. Per celebrare la figura di Ducci, storico sindaco aretino, antifascista, partigiano e presidente provinciale e dirigente nazionale Ampi, un doppio appuntamento, un incontro dibattito e poi la mostra Aldo Ducci, immagini, documenti e ricordi organizzata dalla sezione aretina di Ampi con il patrocinio del comune e della società storica aretina. È esauriente, anzi esaustiva, dal periodo della clandestinità di Aldo Ducci fino alla fine del suo regno, chiamiamolo così, che fra l'altro credo sia forse più lungo di quello di Cosimo I. e la figura di Aldo Ducci viene rappresentata in maniera esemplare sia da Paolo Ghelli, che è stato il ragioniere capo del comune, e sia da Nino Materazzi. Ghelli ha fatto un intervento appassionato e molto pertinente. La mostra, eccola qua, decine e decine di fotografie che testimoniano un'attività seconda e instancabile per una città che lui indubbiamente amava. La mostra sarà visitabile sino al prossimo 29 luglio. Lezioni di yoga al tramonto con il panorama della Pieve di Santa Maria e del Centro Storico di Arezzo a fare appunto da scenario. Il prossimo 20 di luglio alle 20.30 c'è il secondo appuntamento di yoga ad arte organizzato dalla Fondazione Ivan Bruschi. Lezioni di circa un'ora e mezza si svolgeranno appunto nella terrazza panoramica della Casa Museo e sono guidate dal maestro Giuseppe Storani, che da oltre 20 anni pratica questa disciplina. Domani ad Arezzo a Riprendiamoci la Scena, rassegna di teatro e musica in 11 tappe, promossa dal CESVOT per l'estate toscana. arriva il talento musicale di Frida Bollani Magoni, giovanissima e prodigiosa pianista, polistrumentista e cantante, figlia d'arte, da sempre immersa nel mondo dei suoni e della musica. Si esibisce in una performance di piano e voce ipovedente. Frida non ha mai ritenuto il suo stato una menomazione, bensì una sorta di dono del destino che le ha permesso proprio di potenziare le altre doti appunto come la capacità di ascoltare in modo diverso fino a godere del cosiddetto orecchio assoluto. La retina Martina Sbragi, vincitrice della fascia di un'importante tappa toscana di Miss Italia, approda nella semifinale regionale. La serata si è svolta lo scorso 13 luglio presso il ristorante Parco La Ragnaia di Calenzano, a Firenze, alla presenza di un folto pubblico e di una giuria qualificata. Le ragazze in passerella erano 20, provenienti da tutta la Toscana. Martina, 23 anni appunto di Arezzo, studentessa universitaria a Perugia, si è classificata quarta, accedendo così di diritto alla semifinale regionale del 6 di agosto. Oggi primo allenamento per l'Arezzo Calcio, ma le regole, tra virgolette, le ha dettate il caldo. Il gran caldo di questi giorni detta le regole anche per il primo giorno di ritiro dell'Arezzo Calcio. Il primo allenamento allo stadio Giusiconti di Rigutino è stato posticipato di una mezz'ora proprio per la calura estiva. Poi, tutto regolare, mister Paolo Indiani ha iniziato la prima sessione di allenamento e il suo vice, Federico Vettori. In queste ore la società annuncia l'ingresso anche nello staff tecnico della prima squadra di Riccardo Di Pisello, collaboratore tecnico e preparatore dei portieri, e Manuel Sinatti, collaboratore e preparatore atletico. Riccardo Di Pisello vanta una lunga esperienza come preparatore dei portieri tra le fila del San Gimignano, del Castelfiorentino, Certaldo, Siena, settore giovanile, Poggi Bonsi e non solo. Reduce dall'esperienza con il San Donato Tavarnelle, arriva in Amaranto appunto come collaboratore tecnico e preparatore dei portieri. Manuel Sinatti, classe 97, laureato in Scienze Motorie, ha già avuto in passato modo di lavorare tra le fila del Cavallino nel settore giovanile Amaranto. Dopo l'esperienza in prima squadra con il Montagnano, entra nello staff della prima squadra dove affiancherà il preparatore atletico Maurizio Pecorari. Ed infine un colpo di mercato ancora non ufficializzato, ma insomma quasi certo. Si tratta di Davide Di Pasquale, classe 1996, capitano del Foggia, con cui in due stagioni ha messo insieme 55 presenze e 4 gol. Pescarese di nascita, cresciuto nel vivaio bianco-azzurro, Di Pasquale ha giocato anche con Giulianova e Campobasso in Serie D, prima di approdare tra i professionisti con la Samb nel 2016. Negli ultimi due campionati, il difensore ha indossato la fascia di capitano e la maglia del Foggia, con cui a giugno è arrivato alla finale play-off per la Serie B, poi persa contro il Lecco. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto e arrivederci. Grazie a tutti i nostri spettatori, grazie a tutti i nostri spettatori.